Ciao a tutti da Diego di Tecnofone.it e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho in mano queste cuffie, cuffie davvero fantastiche, sono delle cuffie di Teofel. Teofel è un'azienda che ho scoperto qualche mese fa grazie a degli auricolari, gli auricolari Teofel Supreme In che trovate nel canale e che mi sono piaciuti tantissimo. Adesso io qui ho le cuffie sovraurali Supreme On. Sono un prodotto stilisticamente, mi stavo bappinando, davvero esagerato. Hanno una cura nei dettagli davvero incredibile. Sono belle, al tatto, leggerissime, ma soprattutto hanno una qualità audio davvero esagerata. Esagerata soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, prezzo che vi svelerò alla fine del video. Queste cuffie hanno un driver all'interno di 40 mm, Bluetooth 5.0, volume controllabile tramite questo joystick. Ragazzi questa è veramente la svolta. È un piccolo joystick che a seconda del movimento che facciamo lui ci permette di gestire tutto. Dal brano, il volume, la pausa, eccetera eccetera. In più hanno anche un sensore all'interno che serve per mettere in pausa il brano quando rimuoviamo le cuffie. E che dire ragazzi, io adesso penso di cambiare inquadratura, andiamo a vedere cosa offre la confezione e poi vi parlo anche della qualità audio. Allora questa è la scatoletta che arriva in cartone completamente riciclato. All'interno troviamo una comodissima pochette in vellutino morbido per il trasporto e la conservazione delle cuffie. Queste sono le cuffie che mettiamo un attimo qua e poi qua sotto troviamo un box sempre di cartone con all'interno gli accessori. Accessori che sono in sostanza questi. Abbiamo il cavetto per l'utilizzo tramite il classico jack audio. Il cavetto ha il telecomandino a filo che non è affatto una brutta cosa e in più ha questo sistema di aggancio con una piccola filettatura. Vedete c'è un principio di filetto cioè soltanto praticamente bisogna infilarle, girare fino a che aggancia il filetto e poi ruotiamo e si vanno a bloccare. In questo modo se noi tiriamo non viene via, rimane davvero fermo e stabilissimo. E questa è una cosa davvero, una chicca che è soltanto un'azienda diciamo che sa come si costruiscono i prodotti seri allora gli viene in mente di metterlo diciamo nelle sue cuffie. Mentre qui troviamo il cavetto usb di tipo c per la ricarica. La batteria delle cuffie ha un'autonomia di circa 25 ore e ha una tipologia anche di ricarica rapida che permette con soltanto 15 minuti di ricarica un'ora di ascolto. Si ricaricano completamente in circa un'ora. Tecnologicamente parlando all'interno troviamo il Bluetooth 5.0 innanzitutto come sistema di trasmissione. Bluetooth 5.0 con tecnologia Qualcomm CVC 8.0 per quanto riguarda la capacità diciamo di effettuare chiamate in viva voce e quindi davvero anche in questo caso è una garanzia. Supporta i codec AAC principalmente su iPhone e aptX principalmente o meglio solo su Android e all'interno troviamo un driver lineare da 40 mm quindi bello grosso con una bobina mobile in alluminio ramato e magneti al neodomio. Tutto questo cosa vuol dire? Si traduce in una qualità di audio decisamente sopra la media diciamo perché le prestazioni di queste cuffie sono eccellenti. L'archetto è chiaramente regolabile guardate qua questa struttura in alluminio satinato che la trovo davvero esagerata. Il padiglione vedete si muove per adattarsi al nostro orecchio. Nella parte in alto dell'archetto troviamo questo rivestimento in tessuto mentre all'interno abbiamo questo morbido praticamente il solito materiale che viene utilizzato per i padiglioni in memory foam ricoperto di ecopelle con questa trama diciamo il logo dell'azienda. Passiamo adesso ai padiglioni. I padiglioni che vedete il cavo di collegamento dei padiglioni davvero bellissimo esteticamente. Hanno appunto come vi ho detto materiale memory foam che offre un buonissimo isolamento passivo. Qui non c'è o meglio non si vede ma c'è troviamo il chip nfc per il collegamento istantaneo con i dispositivi android e questa è una cosa davvero molto molto comoda. I comandi allora questo è il tasto di accensione tenere premuto due secondi per accendere il dispositivo mentre se vogliamo resettare il collegamento con l'ultimo dispositivo associato basterà tenere premuto per quattro secondi sentirete un suono bling bling all'interno delle cuffie che vorrà dire che è pronto per accoppiarsi con un nuovo dispositivo. Questo è il led di stato qui inseriamo il jack per ricaricare le cuffie e questo è l'ingresso per il jack audio. Questo è un microfono qua troviamo l'altro microfono e anche qua troviamo l'altro microfono per la soppressione dei rumori di fondo durante le chiamate e questo ragazzi è la vera svolta. Io non l'avevo mai provato e dopo che ho provato questo addio controlli touch perché questo è veramente comodissimo devo utilizzare praticamente un joypad un piccolo joypad che ha 1 2 3 4 5 gesti su giù destra sinistra e pressione che servono per gestire la riproduzione dei brani e del volume su e giù per alzare il volume destra sinistra per mandare avanti e indietro il brano schiacciare per mettere in pausa. Ragazzi è la vera svolta io sinceramente l'ho detto non l'ho mai provato però per me è assolutamente il controllo definitivo che tutte le cuffie devono avere perché i gesti oppure il touch è veramente una roba vecchia in confronto a questo. C'è inoltre la possibilità di collegare le cuffie Supreme On ha due dispositivi in contemporanea ok oppure attraverso l'applicazione Teofel e la funzione share me c'è la possibilità di condividere la musica ok che stiamo ascoltando con un altro paio di auricolari Teofel. Vi faccio vedere rapidamente anche l'applicazione. L'applicazione è disponibile sia per iOS che per Android ok si chiama headphone Teofel e questa è l'applicazione. Allora innanzitutto l'interfaccia appena l'apriamo ci mostra il residuo della batteria, il modello di cuffie che abbiamo chiaramente il colore lo scegliamo durante la configurazione e poi abbiamo la possibilità di andare ad attivare l'equalizzatore che funziona soltanto se stiamo ascoltando un brano. Facciamo partire un brano ad esempio. Abbiamo abbassato il volume se no poi YouTube mi fa pagare tutti i diritti dei brani e vedete c'è questo tipo di equalizzatore che permette oltre di una funzione personalizzata di scegliere sei diversi tipi di impostazione vedete pop, techno, podcast eccetera eccetera altrimenti possiamo andare di equalizzazione personalizzato. Io sinceramente lo trovo già buono come il neutro quindi lo lascio neutro. La funzione share me è quella che serve per condividere la musica che stiamo ascoltando con altri dispositivi o meglio con un altro paio di cuffie auricolari e in più abbiamo qua nelle impostazioni la possibilità di attivare o disattivare la pausa intelligente, scegliere il tempo per lo spegnimento vocale, l'assistente vocale tramite le cuffie perché se noi premiamo due volte rapidamente il tastino joystick partirà l'assistente vocale che sia Siri o Assistant e in più abbiamo anche la possibilità di andare ad aggiornare il software. Adesso è arrivato al momento di indossarle perché appunto vi voglio anche parlare soprattutto di come si sentono davvero queste cuffie Supreme On. Allora devo dire che dal punto di vista ergonomico sono davvero molto molto comode. Hanno i padiglioni che sono imbottiti in memory foam, vanno a coprire quasi completamente l'orecchio, sono di tipo sovraurale quindi non vanno a chiudere l'orecchio completamente. Queste sono comode soprattutto d'estate perché comunque il calore che possiamo avere da un contatto diciamo con le cuffie è decisamente minore rispetto a delle cuffie circunaurali. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque non hanno nessun tipo di ANC ovvero non hanno nessun tipo di cancellazione attiva del rumore. Tuttavia ho trovato un isolamento passivo davvero molto molto buono. Tant'è che adesso io sto parlando ok e mi viene da alzare la voce perché comunque un pochino vanno ad isolare. Le cuffie hanno all'interno un sensore di presenza, ecco come ho detto voi almeno sento la voce, un sensore di presenza che mette in pausa il brano quando lo stiamo ascoltando e la qualità audio di queste cuffie, io ve lo dico ragazzi, è davvero esagerata ok? Esagerata. Il volume altissimo. Siamo a livelli veramente molto molto alti che difficilmente ascolterete musica al volume alto con queste cuffie perché vi fa male diciamo. Mentre per quanto riguarda il suono, i bassi, i medio, gli alti, le voci, le chitarre, il riff eccetera eccetera e ragazzi qua si sente tutto, si sente veramente tutto, tutto bello preciso addirittura ho provato ad utilizzare il Dolby Atmos su Apple Music, minchia io ho riscoperto cose nelle canzoni che non avevo mai sentito prima, canzoni che avrò ascoltato un miliardo di volte, bene sono riuscito a percepire dei riff, delle chitarre, dei cori che prima assolutamente non avevo mai ascoltato. Chiaramente non è solo merito di questo, è merito anche della tecnologia Dolby Atmos però ragazzi con queste cuffie davvero riusciamo ad apprezzare la bontà di un ascolto di una musica diciamo ad alta qualità. Tuttavia anche se utilizziamo Spotify, ascoltare in streaming o qualsiasi cosa sentiremo che abbiamo sulle nostre orecchie una cosa diciamo di diverso dal solito standard perché davvero hanno una qualità sonora davvero elevata. Tra l'altro l'ho provata anche per ascoltare adesso non vorrei disturbare il microfono, me ne metto così. Tra l'altro l'ho provata anche per ascoltare un film, ok? Oppure giocare a Stadia, tra l'altro comodissimo la possibilità di collegarlo al joypad di Stadia, recensore di Stadia la trovate sul canale, è assolutamente anche lì nessun tipo di problema. Sono molto buone anche per quanto riguarda la possibilità di videoconferenza, ok? Perché comunque hanno il microfono, si possono utilizzare anche in chiamata e anche da questo punto di vista qua davvero molto buona la qualità delle chiamate sia con una classica telefonata che in videoconferenza. Insomma ragazzi, io sinceramente non ho trovato nessun tipo di difetto. Forse l'unica cosa che non hanno è la mancanza dell'ANC però sinceramente io non lo vedo un problema, non lo vedo un difetto perché comunque dal punto di vista della qualità queste cuffie sono davvero eccellenti. Se siete interessati all'acquisto Teofel vende solamente sul loro sito online. Avete la possibilità di riceverle a casa gratuitamente, il prezzo adesso è scontato a 139 euro, prezzo davvero giusto per cosa state acquistando. Cioè potrebbero costare tranquillamente 300 euro perché la qualità audio è davvero elevata. E tra l'altro soddisfatto i rimborsati 8 settimane, reso gratuito quindi veramente acquistate in modo sicuro. Vi arrivano in pochi giorni e io assolutamente garantito ve le consiglio. Sono disponibili in sei colori, sono colori davvero tutti molto belli, adesso ahimè non me li ricordo però immagine dei colori e comunque vi consiglio di guardare la recensione su tecnofon.it. Io vi saluto, vado ad ascoltarmi un po' di buona musica. Ciao!